Comunque oggi è lunedì, lo sapete, ve lo ricordate, e a lunedì non posso far altro che dirvi buon lavoro, ma c'è qualcuno che è molto meglio di me, ve lo può dire, che chi è, chi è, chi è? Filippo Poletti, che vi augura tutti i lunedì un buon lavoro. Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è coraggio, unito a orgoglio. Non ho mai venduto la verità e che ritenevo di dover ancora fare molto da solo. E poi un po' di orgoglio personale. Chi vende non è più suo. Bella visione di Giorgio Armani, lo stilista. A chi mi chiedeva una partecipazione nella Giorgio Armani rispondevo No, grazie, ha spiegato, ce la faccio da solo. E tra i suggerimenti anche quello sulla longevità. Ascoltatelo. Due momenti di ginnastica al giorno. Uno quando mi sveglio e uno prima di coricarmi la sera. Viva, viva Armani. La seconda parola chiave della settimana è voglia di fare. Ciò che conta è la voglia di fare, di imparare la capacità di affrontare nuove sfide. Per questa ragione hanno deciso di non prendere in considerazione le esperienze lavorative o i titoli accademici dei candidati, in particolare dei candidati over 50. È la scelta fatta da energia comune. Azienda con sede nella provincia di Bari. Il focus della selezione è appunto sulla motivazione, sulla passione, sulla determinazione dei candidati. Prospettiva interessante. La terza e ultima parola chiave della settimana è prevenzione. La prevenzione dei tumori al seno si fa direttamente in azienda. È l'esempio di Barilla che a Pedrignano, nel quartier generale, alle porte di Parma, ha organizzato una serie di incontri con i medici del centro senologico dell'ospedale maggiore di Parma. Per le dipendenti, consulenze individuali e inoltre una campagna informativa sulla intranet aziendale. Diagnosi dunque precoce anche sul posto di lavoro. E allora, buon lavoro a tutti!